FUN NUMBERS SORPRENDENTEMENTE Ci vorrà un po' prima che arrivi il prossimo carico di starter Un paio di giorni o settimane, credo Vuoi dire che non potrò avere nessun Pokémon oggi? Non ce n'è nemmeno uno che puoi darmi! Ci sarebbe un Pokémon su cui gli scienziati stanno lavorando Ma non sono sicuro che dovresti prenderlo Non abbiamo avuto abbastanza tempo per testarlo Potresti tornare tra un paio di giorni e... NO! Io voglio un Pokémon! Ho dieci anni! Non mi interessa che Pokémon hai Io lo voglio adesso! Ok, allora, se proprio insisti, il Pokémon è lì sul tavolo Che cosa hai fatto? Hai completamente obliterato il mio Pokémon! Beh, è stato fin troppo facile! Il tuo Pokémon era così scarso! Futtiti! Sconfiggeremo ogni allenatore su questo pianeta E diventeremo i campioni Pokémon del mondo! NO! DELL'UNIVERSO! So qua! Ehi, ehi! Avete sentito? Il tizio con un solo Pokémon sta arrivando per sfidare noi! I Super 4! Cosa? Non voglio sfidarlo! Sarebbe un suicidio! Benvenuto, signore! Come sta oggi? Sono qui per battervi e diventare il campione Pokémon! Uh, non è necessario tutto questo, signore! Deve solo superarci per diventare campione! Wow, davvero? Sì, ma certo! Da questa parte! Sono finalmente il campione! Ce l'abbiamo fatta! Batti il 5, amico! Te l'avevo detto di non prenderlo! Ciao ragazzi! Se il video vi è piaciuto, fateci sapere qui sotto nei commenti e non dimenticate di spuntare la campanellina in basso a destra per rimanere sempre aggiornati su tutti i video che pubblichiamo! Questo è un nuovo animatore e siamo molto felici di portarvelo sul nostro canale grazie a un vostro consiglio quindi se avete altri consigli o richieste su altri animatori noi cercheremo di metterci in contatto con loro per sapere se possiamo doppiare il loro video! E ora passiamo ai salamuppi! Allora io che sono Salci tenevo a salutare Scurunuro con la faccina! Ciao Scurunuro! Quando vuoi, passa a sfidarmi! Io che sono Pippo ci tenevo a salutare Sonic X! Ciao Sonic! Mi raccomando, fai il bravo e sii veloce! Ciao io sono Kermit e ci tenevo a salutare Cristian Battista! Ciao Cristian! Mi raccomando, passa dall'arena di Cell così ci salutiamo! Ciao io sono Batman e ci tenevo a salutare Firegod300! Ciao Firegod! Rispetta la giustizia o verrò a cercarti!